No, scusate, non avete capito perché sono felice, no, c'è stato un malinteso, ho detto sono felice che il Como e Serie A, ma perché sono 6 punti, hai capito? Allora, 6 punti il Como, 6 punti il Milan, 6 punti il Monza, sono 18 punti già in cassaforte, 18 punti sono tanti, avete capito? Eccomi l'ho capito male, sono felice che vieni, è salito il Como, sono felice, capito? Voi non dovete capire le cose, no, framonza, tutte succursale, framonza, Milan e Como, 18 punti l'anno prossimo, assicurate, 18 punti sono tanti, 18 punti sono sono due mesi di calcio quasi, no, quasi dico, eh, ste, 3, 6, 9, 2, eh sì, sono quasi due mesi, sono quasi sei partite, sei partite sono già, tu già togli sei partite con questi scarsi qua, eh, eh, che caso vuol dire tanto? Eh, eh, eh!